Quattro gol realizzati in campionato e uno in Coppa Italia. Matteo Abate è il cannoniere della difesa dell'Ellas. Tre di questi quattro gol in cadetteria hanno portato i tre punti. Lo schema è preciso e consolidato. Calcio d'angolo, possibilmente dalla bandierina di sinistra, spizzata sul primo palo e Abate che sul secondo arriva a bucare la difesa avversaria. Evidentemente il Vicenza non ha studiato bene i DVD delle precedenti partite del Verona. Non aveva mai segnato così tanto Abate, classe 1983. Dior Bettello, arrivato al Verona nel luglio 2010 dopo il fallimento del Gallipoli. Prima a Piacenza, dove è cresciuto, e Ancona. Difensore centrale trasformato in terzino da mandorlini nella scorsa stagione di Lega Pro. Sembrava una mossa azzardata, invece il rendimento del giocatore è andato sempre in crescendo. La nuova vita da bomber di Abate era iniziata proprio con la prima partita della stagione. Coppa Italia a Vicenza e primo centro in maglia giallo-blu. Alla fine fu vittoria per 2-1, quindi il gol con il Torino nella gara di andata persa dall'Ellas. Poi le reti nelle vittorie con il Bari, 1-0, Empoli 3-1 e Vicenza. 2-0 con dedica finale anche a chi gioca poco o nulla. Stavolta voglio dedicare questo gol a Manuel Prendi e Torna Mancini. Lui sa perché, questo è il suo soprannome, Prendi e Torna. Lo dedica a lui perché mi aveva detto che prima della partita avrei fatto gol, quindi questo gol è tutto suo.